che anno sarà il 2024 per la scuola sarà un anno ricco secondo quello che sta emergendo da questo fine 2023 come vedete alle mie spalle il titolo di questo video di fine anno che vogliamo rivolgere a tutto il mondo della scuola l'anno che verrà un 2024 ricco di concorsi e assunzioni ma non solo tanto e tanto altro lo scopriremo insieme al direttore della tecnica della scuola alessandro giuliani salve eccoci eccoci sì sicuramente il 2024 si prospetta molto molto ricco di novità novità annunciate alcune sono novità legislative io direi di affrontare tutti gli argomenti uno per uno perché è un piatto ricco e anche sostanzioso e su molti aspetti sappiamo già a quella in cui appunto andremo incontro ecco direttore partiamo dai concorsi concorsi in arrivo tre le procedure una l'anno per complessivi 70 mila posti con prova scritta risposta multipla e orale su come si svolge una lezione poi concorsi ordinari corsi abilitanti concorso per religione cattolica e per dirigenti scolastici dunque insomma come detto un piatto molto molto ricco quello dei concorsi e soprattutto delle assunzioni sì sì possiamo dire che per la prima volta quasi tutte le figure professionali della scuola eh saranno interessate a questo eh reclutamento straordinario partiamo dai settantamila docenti eh che verranno assunti non solo nel duemila ventiquattro però ecco c'è già una presentazione delle domande per la prima tranche abbiamo detto tre eh tornate e concorsuali la prima la la presentazione delle domande fissata tra eh per i primissimi di gennaio esattamente il nove gennaio dopo di che eh riguarderà ovviamente tutti i cicli scolastici e dopo di che ne avremo una seconda dopo l'estate a settembre e poi un'altra bandita nel duemila venticinque si tratta di procedure eh particolari eh diciamo eh diciamo più eh abbordabili ecco mettiamoci nei panni di un potenziale candidato perché è prevista una prova eh scritta eh tra l'altro non come il classico concorso ordinario ma eh semplificata quindi con risposte eh multiple eh e poi un un orale eh che appunto prevede una eh un colloquio invece disciplinare sarà una lezione eh simulata e proprio di questi giorni è stata è stato eh diciamo accordato finalmente anche il concorso per docenti di religione ricordiamo che sono quasi vent'anni che non viene attivato eh un concorso che sarà straordinario eh in questo caso si tratta di una procedura straordinaria riservata a eh al settanta per cento appunto dei posti e vacante disponibili e riservata a coloro che hanno almeno tre anni di servizio sarà composto da un'unica eh prova orale didattico metodologica anche questa semplificata e il ministero insomma con qualche eh rimbrotto da parte dei sindacati però intende anche inserire una prova eh di inglese e questo stabilizzerà tantissimi docenti di religione questa procedura e e questa certamente dopo eh che eh era stato annunciato già dal duemilaventi eh questo tipo di eh selezione eh era la legge centocinquantanova addirittura no nel duemiladiciannove adesso dovremmo esserci come dovremmo esserci anche con il concorso abilitante eh ricordo che il decreto quattro nove sette del duemilaventi aveva anche eh permesso la candidatura di ben settantamila insegnanti moltissimi di ruolo ecco i concorsi i corsi abilitanti partiranno anche questi siamo alla ratifica in particolare dell'Ambur in questi giorni eh diciamo degli enti e delle associazioni competenti quindi siamo veramente eh eh possiamo dare per certo ecco l'avvio di questi corsi abilitanti serviranno a tantissimi docenti anche per potersi appunto abilitare in una nuova eh classe di concorso e poi chiedere trasferimento nel negli anni successivi parte il concorso per dirigenti scolastici è un concorso per complessi novecentosettantanove posti cinquecentottantasette il sessanta per cento sono quelli che verranno ehm affidati eh a eh personale eh con eh almeno come canonico diciamo come eh prassi eh appunto come prevede la norma canonica che ha eh di ruolo almeno cinque anni di servizio anche in questo caso si vede e si prevede una prova scritta e eh una eh una prova eh orale ehm ultimo eh concorso ma non per importanza perché è la prima volta che eh viene espletato quello per educazione motoria è già partito ben mille settecento quaranta mille settecento quaranta posti e eh ricordiamo si tratta di eh docenti di la eh di motoria che vengono inseriti per il momento solo nelle classi quarte e quinte della primaria e poi si è in attesa ecco su questo invece dobbiamo dire eh il concorso per ispettori tecnici che eh i tempi potrebbero essere ancora ancora lunghi. Ecco passiamo invece alla eh mobilità eh il vincolo triennale rimane nel contratto duemila diciannove ventuno non si è potuto fare diversamente ma i sindacati non demordono. Eh sì eh allora eh il contratto collettivo nazionale è uno dei motivi ricordiamo per cui la Will Scuola Rua non ha sottoscritto eh appunto il contratto per via dei vincoli eh ma eh da questo punto di vista ribattono gli altri sindacati firmatari che è appunto eh norma di legge c'è poco da fare a livello contrattuale. Credo che da questo punto di vista eh benché non ci sia una norma nel CCNL duemiladiciotto ventuno che aggira o comunque permette come è accaduto negli ultimi anni di poter in qualche modo eh bypassare il problema dei neoassunti e il problema di coloro che hanno anche eh colto eh la scuola per il trasferimento anche in questo caso ricordo che c'è un vincolo triennale credo che possa eh essere comunque possa esserci qualche più di qualche speranza eh proprio nel contratto eh di mobilità staremo a vedere rimane comunque la questione molto aperta e ricordo ecco questo è molto importante che sono decine e decine di migliaia i docenti trasferiti al nord eh e immessi ruolo al nord che attendono con ansia eh buone nuove da questo punto di vista. Attenza e novità anche sulle GPS eh perché il duemilaventiquattro sarà l'anno del rinnovo delle graduatorie e quindi anche eh le assunzioni da GPS nel frattempo i precari sperano sempre nel doppio canale eh per eh le assunzioni eh ma è una speranza vana questa? Ma eh francamente eh allora torniamo indietro al marzo duemilaventitré eh il ministro si rivolse eh alla commissione europea perché su spinta dei sindacati appunto chiese eh insomma di eh diciamo di avere un parere su questo eh su questo punto e poi però non non se ne è saputo più nulla quindi non possiamo dire che c'è consente evidentemente eh i risponsi eh le risposte all'istanza del ministro Valditara non sono state così eh così confortevoli di questo da questo punto di vista. Sappiamo bene che all'interno del governo vi sono eh diciamo delle eh parti che non gradirebbero una soluzione di questo genere francamente mi sembra un salto eh molto 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 lungo dal poter essere realizzato soprattutto in brevi tempi probabilmente eh sarà eh fatto ma eh da qui eh già eh alla prossima estate io non credo che eh vi siano i presupposti ci ho detto eh è un dato di fatto che i concorsi non hanno saputo reggere le esigenze eh rispondere alle esigenze e ci ritroviamo comunque con duecentomila eh supplenze circa annuali frutto anche di questo mancato assunzione attraverso attraverso le GPS. Sulle GPS c'è da dire appunto un'ultima cosa eh si prevedono anzi siamo certi che vi saranno nuovi regolamenti, nuove norme che dovranno assolutamente risolvere i problemi dello scorso anno che l'algoritmo causò a causa appunto della dello scavalcamento di coloro che non avevano per vari motivi indicato determinate scuole si sono ritrovati in fondo alle gradatori pur avendo punteggi altissimi. Ecco è un precedente che tra l'altro ha aumentato il contenzioso e che ha creato molto molto malumore a livello sindacale e di eh di lavoratori e io credo che insomma verrà superato sicuramente con un regolamento più agevole e meno eh iniquo. Passiamo alla legge di bilancio duemilaventiquattro le chiedo quali novità ci saranno per la scuola appunto in questo nuovo anno. Più di quella di quest'anno io eh mi rifarei a quella dello scorso anno perché eh abbiamo avuto assistito a un dimensionamento eh anche se non massiccio però che eh riguarda diverse centinaia sette ottocento istituti che verranno eh accorpati e dopo le sentenze della Corte Costituzionale questi istituti eh che dovevano appunto essere accorpati su un piano triennale invece eh verranno appunto fusi uniti moltissimi già eh dal prossimo mese di settembre settembre duemilaventiquattro questo ha comportato feroci protesti da parte anche di alcune regioni soprattutto del centro di sinistra e eh anche alcune del centro-destra a livello sindacale eh anche se l'impressione che per molte eh regioni giochi che siano fatti e queste scuole ricordiamo scuole che vanno al di sotto degli otto novecento alunni per unità scolastica quindi il loro destino sembra ormai segnato e da qui ai prossimi anni quindi assisteremo a questa eh questo accorpamento con scuole eh sempre più grandi con un unico dirigente scolastico un unico DSGA e questo francamente stona rispetto alla politica che c'era stata prospettata di maggiore attenzione eh anche alla attività didattica l'offerta formativa anche la maggiore attenzione ai singoli studenti insomma un dirigente che deve tenere conto di milleottocento duemila studenti e relative famiglie insomma francamente eh ci appare un po' veramente molto difficile. Ecco abbiamo già quindi risposto in parte al prossimo eh tema quello del dimensionamento perché dopo le sentenze negative eh alle regioni il governo ha accelerato e il progetto triennale previsto dal governo Meloni eh con la passata ex finanziaria prevedeva circa settecento scuole accorpate appunto come abbiamo detto questo è un'ultima cosa che questo sta comportando non se ne è parlato molto oltre che la riduzione di altrettanti dirigenti scolastici e DSG anche di qualche migliaio di unità di personale ATA praticamente le segreterie didattiche del personale verranno meno eh nelle scuole appunto che verranno fuse questo diciamo che contrasta e e e diventa anche per certi aspetti sconcertante rispetto al discorso del PNRR perché il dimensionamento ci dice il ministro che è una eh risposta alle richieste della Commissione europea dell'Unione europea va bene ma la stessa Unione europea ha dato sta dando alla scuola svariati miliardi di euro per rilanciare l'offerta pubblica a livello di istruzione ma poi chi gestirà eh tutti questi PON tutti questi eh progetti eh le segreterie che saranno obberate da un lavoro non indifferente io credo che anche l'incremento che è stato dato eh minimo di eh nemmeno una unità o scuola non potrà bastare per eh dare risposte ricordiamo che ehm sono stati appunto assunti con un organico aggiuntivo soprattutto collaboratori scolastici circa meno di dieci mila le scuole attualmente sono oltre ottomila insomma francamente eh i numeri sono bassi c'è bisogno di risorse umane qua invece si sta andando al contrario. Ecco prima parlavamo di rinnovo di contratto passiamo eh anzi colleghiamolo all'aumento degli stipendi perché in un anno docentiata hanno avuto due aumenti di eh stipendi il primo di circa centoventi euro una parte ancora da completare l'altro come anticipo del ccnl successivo duemila ventidue ventiquattro eh perché però i lavoratori sindacati non sono soddisfatti? Non sono soddisfatti semplicemente perché nel frattempo in questi ultimi due anni l'inflazione ha toccato livelli a due cifre molto importanti la somma di questi aumenti quello del dell'anno scorso e anche l'anticipo di quest'anno eh non non va a neanche a a come dire sopperire al costo della vita eh se si va al supermercato ci si rende conto oggi che i costi eh la spesa hanno appunto avuto un incremento sensibile e lo stipendio non ha eh avuto appunto lo stesso tipo di aumento. E detto questo eh io credo che sarà molto difficile eh al di là di quello che che spera il ministro appunto Giuseppe Valditara che l'anno prossimo si possa chiudere il contratto duemila ventidue ventiquattro. Questo perché le risorse eh che sono state stanziate necessitano di ulteriori eh diciamo incrementi e quindi bisognerà aspettare un'altra legge di bilancio che è quella del duemila venticinque. A questo punto una volta stanziati se ne si si parlere se ne parlerà almeno nei primi anni del duemila venticinque. Un'altra grande novità del duemila ventiquattro è quella della eh riforma della eh filiera formativo tecnico professionale e eh il del liceo del Made in Italy che sono eh due appunto eh novità volute fortemente dal eh governo. È prevista la riforma appunto degli istituti tecnici ed è in discussione il DDL sul liceo del eh Made in Italy. Come cambieranno i percorsi dei ragazzi? Allora come cambieranno? È scritto un po' nel nel nelle liquine guida che sono state anche diciamo approvate dal Consiglio dei Ministri che però sono in fase di eh diciamo l'iter ancora piuttosto noi risulta non brevissimo non diciamo lungo però insomma non è così breve. Nel frattempo eh il Ministero dell'Istruzione ha garantito che la riforma partirà a livello sperimentale io credo e potranno aderire alcune centinaia di istituti il problema in particolare parlo del liceo Made in Italy è che nel frattempo si stanno concludendo le eh diciamo le attività di eh di orientamento quindi le scuole non stanno promuovendo questo genere di corso e parlo dei eh appunto del liceo Made in Italy quindi sarà molto difficile per le famiglie per le stesse per le stesse scuole dirigenti scolastici i docenti e quindi gli organi collegiali il collegio e il consiglio di istituto poi eh in corso d'opera mutare anche quella che è eh l'offerta inserita nel PTOF. E insomma i tempi sono cortissimi eh credo che questo eh programma questo progetto questo disegno di legge avrà una sua eh se il governo lo porterà il Parlamento lo porterà fino in fondo avrà una sua eh come dire andrà a regime eh però addirittura non prima del duemilaventicinque quindi per il momento io eh prevedo insomma una un assaggio nel duemilaventiquattro eh di questo genere di eh innovazione anche perché cambiare mutare anche in corso d'opera è un 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 istituzione scolastica con riguardo il numero di anni di corso ricordo che si passerebbe da cinque a quattro anni comporta un notevolissimo eh cambiamento da un punto di vista strutturale e organizzativo che non si può fare in non dico mesi addirittura addirittura in pochi giorni. Quindi ecco la vera riforma la vedremo nel duemilaventicinque. Carta del docente. Si riduce l'importo eh per i precari al trentunagosto un anno di concessione per i precari al trenta giugno un'apertura da parte della eh cassazione. Cosa succederà in questo nuovo anno? C'è una legge di bilancio che prevede una riduzione attorno ai quattrocento eh cinquanta euro euro più euro meno piuttosto che cinquecento e qualora non dovesse provvedere a colmare questa questa eh questa riduzione noi l'anno prossimo a settembre avremo una un decremento insomma di di questa norma che eh tra la di questo bonus da cinquecento euro anno introdotto dalla legge centosette del duemilaventicinque eh che insomma alcuni definirono una delle poche buone nuove della cosiddetta legge centosette eh in effetti ha permesso in questi anni a tantissimi insegnanti di potersi aggiornare anche attraverso corsi online anche attraverso eh anche semplicemente andando a vedere film andando a teatro insomma sono tantissime le modalità d'accesso sicuramente ha permesso anche di sopperire ai problemi del covid attraverso l'utilizzo eh ricordo di computer eh di di tante spese che i docenti purtroppo solo di ruolo hanno potuto affrontare eh e quindi utilizzando la carta del docente insomma la riduzione non è un bel segnale. È un buon segnale invece quello dell'allargamento ai precari eh peccato che è solo fino al eh 31 agosto. Eh questo l'ha previsto il nuovo governo c'è però un'importante sentenza della Cassazione di fine ottobre duemilaventitré che ha invece aperto anche ai precari del trenta giugno. Questo significa che anche su questo versante si prevede un aumento del contenzioso. Abbiamo visto ci sono tantissime sentenze favorevoli a chi fa ricorso. Insomma non è una eh buona impostazione però questa per arrivare alla concessione della eh della carta del docente. Insomma eh tutti a iniziare dalla Consiglio di Stato, Commissione Europea e adesso anche la Cassazione ci danno questa indicazione non si capisce perché eh chi governa il paese non si adegui e perché un supplente annuale comunque ha pieno diritto ad accedervi e quindi sarebbe il caso di legiferare anche in questo senso. Allora chiudiamo questo eh video con eh la stretta sui violenti che aggrediscono i docenti che è stato un tema sicuramente molto molto affrontato con purtroppo tanti episodi che si sono verificati eh quest'anno e il voto in condotta che eh farà media. E poi un'ultima considerazione su eh l'educazione alle relazioni, la serie di incontri gestiti dai docenti per combattere l'escalation di casi di femminicidio, anche questi alla ripalta della cronaca recentemente. Eh sì, purtroppo la scuola è un recettore di quelle che sono le tendenze eh in atto a livello sociale e queste problematiche vanno anche comunque eh gestite dalla scuola in fase di prevenzione e fa bene a mio modo di vedere il ministero a eh prendersi carico eh anche su spinta politica eh di tutte eh questo di questo escalation anche di atti di violenza nei confronti degli stessi docenti. Eh per il DDL non è stato però appunto eh realizzato un decreto legge, i tempi non sono così brevi come ci era stato detto eh previsto appunto all'inizio eh quindi anche su questo fronte eh non prima di settembre duemilaventiquattro potremo eh vedere insomma a mio modo di vedere gli effetti anche della reintroduzione del voto di condotta eh a livello di appunto di media eh numerica che appunto va poi a influire eh sulla eh appunto sulla eh sul rendimento di ogni singolo eh studente anche ai fini dei crediti formativi eh ricordo eh tra l'altro che eh da questo punto di vista il voto di condotta diventa anche eh per chi prende un voto molto basso eh obbligatorio diventerebbe obbligatorio seguire dei corsi di educazione civica essere anche eh come dire una volta si diceva rimandate adesso eh si congela al giudizio appunto e poi si si costringe il ragazzo stesso a seguire un corso eh appunto di educazione civica e comunque di ehm di rispetto delle regole per sensibilizzare i ragazzi stessi e non è stato appunto ripeto così breve come c'era stato detto lo stesso vale per la stretta eh livello di eh anche di provvedimenti anche se abbiamo avuto nel decreto Caivano abbiamo eh insomma eh avuto già eh una prima un primo assaggio da questo punto di vista come pene che vengono anche eh come dire combinate alle stesse famiglie ricordo pure su da questo punto di vista sull'obbligo scolastico le famiglie che non ho tempo erano appunto all'obbligo fino a sedici anni eh vanno incontro a eh pene molto più severe non se la caverebbero non se la insomma eh per chi non segue eh appunto la legge non se la caverà eh in futuro con una semplice eh multa e per concludere il discorso della eh dei femminicidi da questo punto di vista la scuola può fare molto il ministero si è adoperato ha approvato eh questi corsi eh di carattere eh così così di sensibilizzazione di educazione così detta alle relazioni ci sono state molte polemiche da questo punto di vista perché si tratta di eh alcune ore da svolgere in un orario extracurricolare tenuti dai docenti della scuola e solo occasionalmente da eh esperti psicologi sociologi esperti eh diciamo del territorio o del settore sarebbe stato molto meglio se fosse eh avessero provveduto a a fare operare al contrario cioè fare in modo che eh fossero tenuti appunto da questi esperti e solo occasionalmente dai docenti questo non è avvenuto e su questo c'è molta curiosità anche un po' di scetticismo perché si teme che possano essere non dico disertati però frequentati da un basso numero di studenti che ricordo già devono comunque stare laddove le tantissimi parlo delle scuole medie superiori eh le scuole appunto servono la settimana corta quindi è stare a scuola fino alle quattordici e le quindici rimanere il pomeriggio per tantissimi diventa un problema. Benissimo allora io eh auguro a tutto il mondo della scuola un buon duemilaventiquattro e ringrazio il direttore della tecnica della scuola Alessandro eh Giuliani a cui appunto lascio eh gli auguri per tutto il personale scolastico di un buon di un buon anno. Contraccambio e facciamo i migliori auguri a tutti i lavoratori della scuola, agli studenti, alle famiglie che sia un duemilaventiquattro ricco di novità eh di belle novità, di sorprese eh positive eh e che sia un anno indimenticabile ovviamente in positivo. Grazie. 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 Grazie a tutti